auto fuoristrada muore un albanese un ragazzo di 25 anni residente a campo marino ha perso la vita mentre stava tornando dal lavoro nei campi grave l'amico che era in sua compagnia la tragedia avvenuta a nuova cliternia comunale esernia si surriscalda il clima il vertice nel pdl impone lo stop a giacomo da pollonio siamo il primo partito sostiene il coordinatore di giacomo la candidatura tocca a noi e l'idv presenta capone piano sanitario percomo si difende il direttore generale dell'asrem replica le accuse dei commissari monta la protesta dei comitati a campobasso e ad agnone nuove iniziative per difendere gli ospedali sipario sul vinitali cresce il molise si è conclusa verona la più importante vetrina europea del settore piacciono sempre di più i nostri prodotti e arrivano tre riconoscimenti anche per l'olio il giudice sanziona gli incidenti del derby serne a termoli multate per gli scontri di domenica domenica porte chiusi al cannarsa contro la civita novese l'agnone ospita la strea buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti voi ben trovati dalla redazione di telemulise oggi in apertura la cronaca con la notizia del grave incidente stradale avvenuto ieri in tarda serata vicino campomarino dove ha perso la vita un giovane albanese ferito gravemente anche l'amico ma sentiamo in apertura manuela iorio un incidente stradale avvenuto sulla vecchia stata alle 16 tra nuova cliterni e campomarino un ragazzo di 25 anni è morto mentre l'amico che viaggiava con lui è ferito gravemente dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al santimoteo ora in coma i due erano su una bmw che si stava dirigendo verso campomarino quando all'improvviso forse per l'alta velocità ha sbandato e dopo una serie di testa coda è uscita di strada finendo in una cunetta lo schianto ha sbalzato fuori dall'abitacolo i corpi dei due giovani per diversi metri sono stati ritrovati riversi in un vigneto dai soccorritori che subito si sono resi conto della gravità delle ferite per uno di loro samir barektari di nazionalità albanese ma da qualche tempo residente a campomarino non c'è stato nulla da fare è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del santimoteo l'amico che viaggiava con lui invece di 20 anni è residente a stavenna e in condizioni gravissime ed è stato trasferito all'ospedale di foggia lavoravano nei campi per conto di un'azienda agricola ieri sera stavano rientrando a casa quando sul lungo rettilineo della provinciale l'auto ha sbandato samir era arrivato in italia con il sogno di una vita migliore era stato qualche tempo al nord per poi sistemarsi a campomarino dove viveva con la compagna sul luogo dell'incidente misericordia e carabinieri che hanno effettuato i rilievi e a cui ora aspetta la ricostruzione del drammatico incidente e ora veniamo alla politica regionale perché dopo lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'elezione del nuovo presidente del consiglio è botta e risposta anche tra i consiglieri di minoranza monaco e cavaliere sentiamo giovanni minicozzi ancora polemiche e veleni sull'elezione di Filippo Monaco alla vicepresidenza del consiglio regionale la minoranza di centrodestra infatti non l'ha digerita e dopo aver attaccato a testa bassa in aula il centrosinistra è intervenuta per replicare alle dichiarazioni rilasciate dal neo vicepresidente il centrosinistra ha inquinato il voto per l'elezione dell'ufficio di presidenza in quando c'è l'elezione di due vicepresidenti uno di maggioranza e uno di minoranza e le elezioni di due segretari di maggioranza e di minoranza monaco ha ricevuto cinque voti il sottoscritto ha ricevuto quattro voti e il movimento 5 stelle due voti se facciamo una sommatoria semplicissima la somma è di 11 mentre i rappresentanti della minoranza ne eravamo 7 significa ciò che il centrodestra si è voluto eleggere non solo il centrosinistra chiedo scusa si è voluto eleggere non solo il vicepresidente il segretario di maggioranza ma ha scelto anche il vicepresidente di minoranza questa è una cosa intollerabile è una cosa che credo che sia stata per la prima volta nella regione molise una scorrettezza sul piano istituzionale e credo che in italia continui in molise a battere tutti i record allora io sentendo pur le giustificazioni del presidente fratture quelle del collega monaco mi viene veramente da sorridere perché rispetto a questo atto che ha di una vigliaccheria sul piano politico unica ci sono state esclusivamente delle giustificazioni che sono andate al di là di quella che era la motivazione per la quale il centro sinistra doveva dire perché aveva scelto monaco vicepresidente dell'ufficio di presidenza sulla vicenda è intervenuto anche l'ex governatore michele iorio è stata una giornata nera per la democrazia della nostra regione ha detto iorio parlando di una vera e propria discriminazione per impedire al primo partito dell'opposizione il pdl la partecipazione nell'ufficio di presidenza un fatto gravissimo che non si può superare con la giustificazione adotta dal presidente frattura forse inconsapevole e non partecipe a questa scelta ha aggiunto iorio che di fatto lo indebolisce il tutto invece ha concluso l'ex governatore viene da lontano con un plotoncino forse del pd che ha iniziato la resa dei conti nella maggioranza iorio infine ha accusato il centro sinistra per non avere impugnato il decreto illegittimo e incostituzionale ha detto che lo ha sospeso dall'incarico di consigliere regionale ora la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali a esernia dal vertice del pdl è arrivato il primo stop alla candidatura di giacomo da pollonio sentiamo enzo di gaitano colpo di scena nella scelta del candidato sindaco del centro-destra si è infatti riunito l'ufficio politico provinciale del pdl alla presenza del coordinatore regionale ulisse di giacomo ed è stato proprio quest'ultimo che pur rispettando la figura e l'importanza sociale di giacomo da pollonio generale in pensione della guardia di finanza ha ritenuto opportuno chiarire che il pdl come primo partito della coalizione con il 23 per cento dei consensi raccolti alle ultime elezioni ha tutto il dovere e il diritto di indicare un proprio rappresentante come candidato sindaco del centro-destra in sostanza di giacomo ha affermato che il nome di giacomo da pollonio può venire fuori e può essere sostenuto come candidato indipendente della coalizione ma solo dopo che il pdl non si è riuscito a trovare l'accordo su un suo candidato ufficiale a quel punto se si andrà verso un indipendente o un esterno alla politica l'ex generale può essere ripescato ma al momento l'ipotesi da pollonio viene congelata quindi in riunione del pdl nei prossimi giorni per individuare un candidato sindaco del pdl da proporre alla coalizione in qualità di rappresentante del partito più forte i nomi che tornano in campo sono quelli di stefano testa ramondo fabrizio raffaele teodoro e tonino potena se su di loro non ci sarà il consenso generale della coalizione si passerà indipendenti graditi da tutti e a quel punto non è neanche escluso il ripiescaggio di raffaele mauro ma solo allora si potrà parlare contestualmente di giacomo da pollonio e vedere se avrà un maggiore gradimento lui o l'ex presidente della provincia Mentre l'Italia dei Valori ha scelto di sostenere la candidatura alle prossime primarie di Capone sentiamo Sergio Di Vincenzo Per l'Italia dei Valori è Franco Capone la persona giusta per rilanciare Sernia è in grado di rafforzare la coalizione raccogliendo anche consensi della società civile La scelta di sostenere il dirigente scolastico candidato alle primarie del centro-sinistra è stata illustrata durante una conferenza stampa presente anche il coordinatore regionale del partito Pierpaolo Nagni Immaginiamo che sia il candidato perfetto per questo momento storico della città è un candidato che a partire da sempre all'area progressista non ha mai traballato rispetto alla vita di molti amministratori ha l'esperienza giusta e contemporaneamente è un uomo moderno credo sia il momento giusto perché Sernia possa essere gestita da Franco quindi la sua candidatura alle primarie è propedeutica ad un'ipotesi per la quale i progressisti devono poi organizzare la squadra giusta per vincere anche la partita quella vera, cioè quella del sindaco Franco Capone ha già amministrato la città è stato assessore nella giunta guidata da Giuseppe Caterina e proprio l'ex sindaco di Sernia vede in lui la possibilità di riprendere alcuni progetti lasciati in sospeso alla fine degli anni 90 Conosce la macchina amministrativa molto bene macchina comunale avendo fatto prima ancora dell'assessore del vice sindaco avendo fatto già il consigliere comunale d'opposizione è molto equilibrato, è una persona che sa dialogare con tutti ha in mente un progetto per i Sernia che noi avevamo già sperimentato negli anni 90, alla fine degli anni 90 e che poi non andò in porto io credo che Franco Capone voglia riprendere quelle idee progettuali per stimolarne la creatività e la possibilità che i Sernia possa riavvicinarsi a uno sviluppo vero e concreto perché ne ha bisogno Capiamo argomento, questa mattina si è tenuta un'assemblea in azienda dei lavoratori della GAM preoccupati per il futuro della fabbrica di Boiano ha partecipato anche il direttore generale Giallorenzo restano le incognite sul salvataggio dell'azienda, sul piano industriale e sugli accordi di produzione il presidente della regione Frattura ha ribadito durante l'incontro con i sindacati l'interesse a tutelare la GAM e la filiera vicola molisana a patto di voltare pagina pensando anche a una ristrutturazione aziendale è un cambio dei vertici societari oggi pomeriggio alle 16 è previsto intanto un incontro in prefettura insieme ai vertici dell'Inps sul tavolo anche la questione legata agli ammortizzatori sociali e al sostegno al reddito Riccardo Mascolo è stato confermato segretario regionale della FIM CISL nel congresso che si è tenuto ieri a Termoli in carico prolungato anche per i componenti della segreteria che lo hanno accompagnato durante il lavoro del primo mandato e cioè Gianni Notaro e Cesare Iallonarto Ora invece torniamo a Campobasso parliamo di sanità perché il direttore generale dell'azienda sanitaria del Molise Angelo Percopo si difende dalle critiche sollevate nei suoi confronti dai commissari straordinari Basso e Rosato su di lui intanto continua a appendere il provvedimento di sospensione vediamo Lo scontro tra il commissario sanitario Filippo Basso e il direttore generale dell'ASRAM Angelo Percopo è giunto alla fase finale il 30 aprile scade infatti l'incarico per lo stesso Basso e l'ultimo atto potrebbe essere proprio la sostituzione del vertice dell'azienda sanitaria il provvedimento di sospensione per Angelo Percopo è stato avviato il 30 ottobre ma non è ancora operativo il direttore generale ha risposto con una sorta di memoria difensiva 10 punti contenuti in 80 pagine che secondo la direzione generale dell'ASRAM sollevano dubbi e perplessità sulle valutazioni del commissario Basso e del subcommissario Rosato riguardo alla struttura sanitaria il documento è nelle mani ora del direttore generale della regione Molise Francioni che dovrà presentare una sua relazione ai commissari l'ultima parola però spetterà proprio a loro Angelo Percopo difende a spada tratta il lavoro svolto in questi anni dalla direzione generale dell'ASRAM che nel 2009 si è trovata sulle spalle un debito di 84 milioni di euro ridotto a 30 milioni nel 2012 io ho fatto rilevare che ci sono alcune anomalie nel procedimento senza però sottrarmi alla volontà di rispondere alle obiezioni diciamo che il mio interesse professionale in questo momento è difendere la bontà di quello che io ho fatto ovviamente riconoscendo anche che ci possono essere degli errori per l'amor del cielo ma il mio obiettivo principale non è vincere una battaglia procedurale il mio obiettivo principale è quello di vincere una battaglia professionale Percopo ha criticato anche il piano sanitario varato dal commissario Basso e dal subcommissario Rosato perché ha detto presenta anomalie, incongruenze e contraddizioni un piano che sbilancia l'assistenza sanitaria in Molise a favore del settore privato Il piano sanitario è un documento politico, non è un documento solo tecnico è un documento che basa la sua valorizzazione su alcune scelte di fondo le scelte di fondo non possono essere di una struttura commissariale ma per il semplice fatto che non hanno né il riscontro né la bocciatura né l'approvazione dei cittadini Secondo, il piano sanitario deve essere poi calato sulla realtà ma la realtà deve essere conosciuta e per me che ci sono ormai da molti anni è ancora difficile immaginate se io dovessi fare un programma sanitario per una regione che non conosco lo farei solo tecnicamente mi dicono, questi sono i parametri emodinamica, facciamo un esempio la cardiologia, 300.000 abitanti, un'emodinamica ma se io ho un infarto a Termoli allora dobbiamo decidere di chiudere i comuni più che gli ospedali ma le critiche di Angelo Percopo si sono allargate all'intero lavoro della struttura commissariale io credo che la struttura commissariale, non la personalizzo abbia una serie di manchevolezze nei confronti di questa regione avendo dato una mano a disegnare un'immagine fuori da questa regione che non è del Molise credo che faccia rabbia, fa a me rabbia che non sono molisano quindi immagino che faccia ancora più rabbia a chi questa regione ci è nato e dopo l'attacco del coordinatore del PDL Ulisse Di Giacomo che aveva accusato l'amministrazione di Agnone di immobilismo e di aver fatto solo propaganda sull'ospedale è intervenuto l'assessore Giuseppe Attademo oltre ad accusare il centrodestra di aver distrutto il sistema sanitario Attademo ricorda che l'amministrazione agnonese dopo aver coinvolto i comuni vicini si è incontrata con i commissari Basso Rosato ottenendo con il riconoscimento di ospedale di zona disagiata che venisse preservata la sua funzione per acuti abbiamo inoltre riconosciuto la funzione attiva dei comitati civici ha aggiunto l'assessore che hanno condiviso l'impegno degli operatori del Caracciolo che hanno continuato e continuano la loro opera assistenziale pur tra mille difficoltà quindi ha poi concluso Attademo non si riesce a comprendere dove l'attuale amministrazione comunale sia stata assente a difesa invece dell'ospedale di Campobasso si sono schierati alcuni consiglieri del comune che hanno presentato una iniziativa pro-Cardarelli ce ne parla Tonino Danese un'iniziativa di responsabilità che vuole essere realizzata da amministratori cittadini al di là dell'appartenenza politica ospedale Cardarelli bene comune così l'hanno chiamata i tre consiglieri comunali di Campobasso Maurizio Tiberio, PDL, Michele Coralbo Costruire Democrazia e Adriana Itzi città di noi illustrandone le motivazioni noi dell'ospedale Cardarelli e del piano sanitario abbiamo parlato da tempo con voci diverse però oggi ci poniamo come amministratori del capoluogo e l'ospedale Cardarelli che sicuramente a valenza regionale insiste sul territorio di questo comune ed è determinante in termini di servizi a questo teniamo moltissimo per i cittadini ed allora è doveroso e irrinunciabile che come amministratori comunali ci poniamo il problema suscitiamo l'attenzione dei cittadini cerchiamo possibilmente di agire di interagire e di sbloccare questa cosa che comincia a non piacerci per niente vanno rispettati i diritti dei cittadini ad avere servizi hanno ribadito i tre consiglieri che hanno criticato aspramente il piano sanitario varato dai commissari e hanno illustrato le iniziative che vogliono intraprendere noi vogliamo sensibilizzare e informare la città è stato approvato un piano sanitario regionale di notte da basso già questa la dice tutta le iniziative che porteremo saranno anche di un consiglio monotematico che oggi abbiamo già depositato la richiesta di un consiglio monotematico invitando anche l'assessore alla sanità e il presidente della giunta regionale a parteciparvi e la settimana prossima valuteremo la possibilità di mettere i gazebi per raccogliere le firme dei cittadini di Campobasso per far sì che questa voce sia molto più amplificata rispetto alle tre di questa mattinata vogliamo rompere l'assordante silenzio calato sul piano sanitario hanno aggiunto che mortifica il Cardarelli è necessario in generale hanno evidenziato non perdere di vista i servizi essenziali ai cittadini come abbiamo ricordato anche nel corso della conferenza sono fondamentalmente due sanità e istruzione per questo nasce questo comitato civico allargato dalla città di Campobasso non per tutelare l'ospedale Cardarelli in quanto ospedale che dal punto di vista campanilistico nasce nel territorio comunale ma per conservare l'emblema appunto dell'ospedale regionale e della sanità pubblica gli studenti della facoltà di ingegneria di Termoli hanno raccolto oltre mille firme per salvare il corso di laurea magistrale in ingegneria civile dai tagli decisi dal ministero nonostante le parole del rettore Giovanni Cannata secondo cui a maggio si saprà qualcosa di più sul destino del corso di laurea gli studenti vanno avanti per sensibilizzare l'opinione pubblica non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete affermano nonostante le oltre mille firme raccolte non ci fermeremo tanto che la petizione online è ancora aperta hanno poi concluso gli studenti torniamo sulla cronaca anche quattro mulisani un termolise a tre persone di San Felice del Mulise tra i 23 indagati nell'ambito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Pesaro su una frode del settore cerealicolo le fiamme gialle su disposizione della procura marchigiana hanno sequestrato 1500 tonnellate di falsi prodotti biologici in cinque regioni Marche Emilia Romagna Sardegna Abruzzo e il Molise secondo la finanza la materia prima impiegata per fare soprattutto mangimi veniva acquistata in Ucraina e in Moldavia ma poi una volta in Italia veniva certificata come prodotto biologico e venduta ad un prezzo maggiorato le istituzioni regionali possono fare molto di più per le nostre aziende questo l'appello che Alessio Di Maio Norante titolare delle omonime cantine ha lanciato da Vinitaly il più importante salone internazionale del vino e dei distillati la 47esima edizione di Vinitaly chiude i battenti dando appuntamento all'anno prossimo al più importante salone del settore vinicolo ha partecipato anche quest'anno Alessio Di Maio delle cantine di Maio Norante che ha presentato tante novità veramente quest'anno abbiamo portato molte novità novità dal punto di vista restyling perché abbiamo fatto un rinnovamento e un restyling di tutte le etichette e le bottiglie e poi dal punto di vista vino abbiamo portato una nuova linea di vino che è una linea di vino biologica sia un bianco che un rosso e poi un nuovo moscato Passione e ricerca a Campomarino la famiglia Di Maio produce vini sin dal 1800 alle spalle dunque una lunga e antica tradizione che però unisce storia e sperimentazione il vino bene o male il modo di fare è sempre quello però la tecnologia la scienza e le nuove tecniche ci possono aiutare ad ottenere dei prodotti migliori che però riescono a conservare dal punto di vista che riescono a conservare meglio le caratteristiche del vitigno e del territorio perché per noi che siamo una piccola regione una goccia nel mare del vino che si fa nel mondo la cosa molto importante è collegarsi e avere i piedi per terra conservando le tradizioni e la cultura nostra locale perché quello può essere una cosa che attira molto il consumatore perché se ci mettiamo sui vitigni internazionali la competizione è talmente grande che noi non conteremo nulla Alessio Di Maio ammette infine le difficoltà economiche legate alla crisi mondiale servendo però una ricetta per superare l'impasse e lanciando un messaggio chiaro alle istituzioni regionali è fondamentale conservare il rapporto qualità-prezzo perché se uno fa un buon prodotto ben vestito con un buon rapporto qualità-prezzo e si dà da fare uno spazio lo trova sempre anche se è certo per la nostra regione non è che ci aiuta tanto ma non a noi proprio all'agricoltura è stata messa un po' in secondo piano spero che si capisca che la nostra regione invece con l'agricoltura può far molto perché potrebbe incentivare e aiutare e trainare anche tanti altri settori come il turismo la gastronomia e tanti altri e nel settore olivicolo tre oli molisani hanno conquistato le tre foglie della guida d'Oli d'Italia 2013 della rivista Gambero Rosso si tratta del tratturello dell'azienda Parco dei Buoi del Colle D'Angio Monocultiva Rumignana di Giorgio Tamaro e la Monocultiva Rumignana di Marina Colonna i prodotti molisani entrano così di diritto nella speciale classifica delle eccellenze del Made in Italy guidata dalla Toscana con 31 oli selezionati L'altro pane le nuove frontiere della celiachia se ne è discusso oggi alla Camera di Commercio di Campobasso per presentare il convegno su questo argomento in programma sabato prossimo nella sede della ExGIL un mercato potenziale quello delle opportunità che si aprono per le imprese che intendono investire in un ambito in continua crescita adesso invece parliamo di arte con la mostra inaugurata al liceo scientifico di Campobasso in esposizione fino al 30 aprile le opere di Mario Serra Giancarlo Costanzo e Paolo Dorazio ce ne parla Marcella Tamburello tre artisti a confronto con tre modi di dipingere differenti ma che riescono ad intrecciarsi per dare vita ad uno spaccato unico luce segno forma materia e colore si fondono nelle opere di Mario Serra Paolo Dorazio e Giancarlo Costanzo un gioco dell'arte che mette insieme frammenti di immagini e parole fiori che si perdono in forme geometriche ma anche uomini e animali da interpretare attraverso l'uso del colore la mostra dal titolo Memento Lucille inaugurata al liceo scientifico di Campobasso è dedicata all'artista Lucilla Caporilli di Ferro scomparsa a Roma lo scorso 18 marzo a 47 anni Lucilla era la mia compagna che per mala sanità purtroppo non è più con noi è molto doloroso perché il 18 facciamo i 30 giorni della sua scomparsa ed era un'artista molto impegnata che mi auguro che presto sarà messa in mostra potrete vedere le opere qui perché questo spazio è molto interessante i tre artisti hanno voluto sottolineare inoltre l'importanza oggi dei piccoli centri dove gli intellettuali riescono ancora ad esprimere la propria creatività nelle grandi città invece al contrario di quanto accadeva negli anni 50 l'arte è stata dimenticata messa nell'angolo per dar spazio alla politica e alla corruzione la pittura è stata sempre viva e soprattutto quello che io scopro che è molto più vivace nella provincia che nelle grandi città le grandi città si sono omologate si sono appiattite a un esterofilismo dilagante mentre nella provincia c'è la riscoperta dei valori proprio delle radici di quello che era la storia soprattutto la nostra storia della pittura fondamentale ed importante che purtroppo è stata messa in disparte soprattutto dai nuovi critici e anche da quelle che sono le esigenze mercantiliche non sono altro che pilotate da lobby finanziarie oggi e domani Anna Frate studentessa di Ururi sarà a Parma per partecipare alla gara nazionale tra gli istituti tecnici agrari la giovane che frequenta il quarto anno della scuola che ha sede a Larino si misurerà in prove tecniche di laboratorio per verificare le competenze acquisite negli anni di studio l'iniziativa è patrocinata dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è stato presentato nella sede della curia vescovile di Campobasso il libro il peccato nascosto da riportare alla luce scritto da don Domenico di Franco parroco di Petrella Tifernina presente all'evento il vescovo di Campobasso Bregantini quello di Sulmona Spina il professore di sacra scrittura don Michele Tartaglia e il direttore delle edizioni deoniane di Bologna don Alfio Filippi l'autore del libro ne ha parlato ai nostri microfoni una concezione falsa di Dio visto non come padre e creature ma come concorrente dell'uomo il libro apre una prospettiva nuova per capire il peccato originale commesso da Dama ed Eva alla luce dell'enciclica Dominum et Vivificatem di Papa Giovanni Paolo II io ho avuto la fortuna di vivere in una chiesa molto bella che mi ha innamorato della bellezza del mistero di Dio e mi sembra che questa bellezza vada riscoperta e vada anche annunziata con più coraggio ma anche con più lucidità e con più precisione la chiesa di Pedrello è un canto a Cristo risotto è un alleluia alla sua vittoria e questo è un po' il messaggio del libro la vittoria di Gesù Cristo sul male che ci attanaglia a tutti e da cui la chiesa ha la missione di liberarci quali sono i punti particolari della Sacra Scrittura su cui si sofferma? io mi soffermo in particolare sulla vicenda di Gesù Cristo e della sua generazione c'è stato uno scontro frontale tra la sua generazione incredula e perversa e questa luce è proprio come la lotta tra la luce e le tenebre e metto in evidenza proprio il contenuto di queste tenebre ma anche la bellezza di Dio che è la luce che le vince questa è la parte centrale poi tutta questa vicenda di lotta tra il bene e il male tra il peccato e la grazia tra la perdizione e la salvezza si svolge in tutta la storia dal primo uomo all'ultimo uomo per cui ne traccio una carrellata dalla vicenda di Adamo ed Eva Caino e Abele a Gesù Cristo e poi dopo anche la chiesa di oggi perché ci interessa anche questo nella vita di oggi nel mondo di oggi sabato alle 16.30 a Campobasso sarà messa in scena la rappresentazione teatrale intitolata una storia d'amore d'altri tempi delicata a Civerra e Fonzo Mastrangelo tra leggenda storia e fantasia a realizzarla le classi seconde del quarto circolo didattico Don Lorenzo Milani grazie all'impulso dell'associazione dei genitori scuola misura di bambino coinvolta anche l'associazione crociati e trenitari la quale ha fornito i costumi e c'è stato anche il supporto del Dipartimento della Cultura del Comune di Campobasso una rappresentazione itinerante che sabato pomeriggio partirà da piazza prefettura per arrivare ai luoghi storici che hanno dato sfondo a questa storia e come ogni giovedì vi ricordiamo in chiusura l'appuntamento della serata con Figaro condotto da Enzo Di Gaetano in diretta dalla nostra redazione di Sernia si parlerà delle primarie del centro-sinistra con ospiti in studio tutti e cinque i candidati alla carica di sindaco della città l'appuntamento con Figaro è per le 20.45 di questa sera su Telemolise e subito dopo verso le 22 il seme della speranza con l'arcivescovo Bregantini bene è tutto anche per questo appuntamento con l'informazione di Telemolise grazie per essere stati con noi vi lascio alle notizie che riguardano il meteo e poi alla redazione sportiva buona giornata grazie per la visione